La Transatime è da nudo, cioè o sei marinaio dentro o non arrivi in fondo. Questo è un piatto di pasta, secondo loro quasi alla carbonetta. Travonto spaziale su Pegaso. Pegaso, non vuoi peccar. Buon compleanno a tutti. Terra! Si vede terra! Raga, ci siamo finalmente, marina francese, classe mini. Eccoci qua, stiamo per caricare sul cargo e praticamente è un po' la fine di questa avventura. Grazie per la visione! Grazie.